Musica Un cordiale saluto, ben trovati, è da Tupertura, trasmissione di Tretino TV realizzata in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Siamo con il consigliere provinciale Alex Marini del Movimento 5 Stelle. Ben arrivato nei nostri studi consigliere. Allora partiamo subito col disegno di legge di riforma del progettone. Se ne è discusso nei giorni scorsi in Consiglio provinciale però la riforma è stata rimandata anche se verso la fine si è paventata un'ipotesi di accordo. Rispetto comunque alla proposta dell'assessore Spinelli lei aveva presentato degli emendamenti insieme ad altri consiglieri naturalmente. In realtà non degli emendamenti ma delle proposte di ordine del giorno perché questo disegno di legge va a intervenire su una normativa, la normativa sul lavoro che è piuttosto complessa e si distribuisce su varie norme. Un ordine del giorno riguardava la richiesta di riordinare e creare un unico testo di legge che riguarda tutte le norme provinciali che riguardano il lavoro. Molto semplice che però riguarda proprio il perseguimento di un obiettivo di semplificazione normativa. L'altra richiesta è quella di stanziare più risorse per una misura che si è dimostrata estremamente utile per lo sviluppo della provincia e per la tutela dei lavoratori più deboli. Uno studio di Eurix ha dimostrato che a fronte di 44 milioni di euro destinati al progettone vi è un ritorno in termini macroeconomici di 88 milioni di euro. Questo significa che si vanno a occupare dei lavoratori che sono fragili, si assicura ad esempio l'apertura e il funzionamento dei musei ma anche delle piste inciclabili e di tutto il verde del nostro territorio. Quindi c'è anche un risultato e un output proprio in termini di miglior qualità della vita e di benessere di un territorio aumentando anche l'attrattività. Un'ultima richiesta è quella di andare a approfondire gli effetti in termini sociali e psicosociali su quella fascia di popolazione perché riuscire a impiegare i lavoratori fragili, possibilmente in un numero maggiore, destinando anche maggiori risorse, significa ridurre l'impatto sul sistema socioassistenziale, sul sistema sociosanitario. Come detto, alla fine della seduta, dell'ultima seduta, comunque sembra che sia stato trovato l'accordo. Sì, ci sono tutta una serie di ordini del giorno da discutere, il tempo a disposizione era poco e quindi anche l'assessore credo che sia sceso a miti compromessi. Vedremo ora nella prossima capigruppo come verranno calendari i lavori e quali saranno le proposte concrete che arriveranno dall'assessorato. Parliamo di un altro argomento, sempre un disegno di legge che riguarda lei in particolare sull'osservatorio della legalità, però questa proposta è stata respinta dall'Aula. Sì, non è facile superare una certa resistenza, una barriera psicologica se vogliamo rispetto alla necessità di introdurre anche in provincia autonoma di Trento un osservatorio sulla legalità. Ne abbiamo parlato per più di tre anni perché è dalla primavera del 2019 che ne parliamo, nell'ottobre del 2019 avevo presentato un disegno di legge, finalmente questo disegno di legge è arrivato in Aula, in quella sede la Giunta, anziché esprimersi nel merito della proposta, ad esempio la modalità di composizione dell'osservatorio, piuttosto che gli obiettivi, piuttosto che le modalità di funzionamento, ha richiesto di rinviarlo in commissione, avendo la certezza che poi non sarebbe più tornato in Aula fino al termine della legislatura. Pertanto abbiamo comunque forzato la mano a provare ad affrontare la discussione, ma la scelta della maggioranza è stata di non discutere, di non passare nemmeno alla discussione dell'articolato e quindi sono decadute anche tutte le proposte di ordine del giorno che volevano entrare nel merito di alcune questioni che riguardavano, ad esempio, il traffico illecito di rifiuti, le infiltrazioni criminali nelle valli del Porfido, piuttosto che le operazioni finanziarie sospette. L'altro disegno di legge riguarda il referendum per l'istituzione di un referendum che sia molto più trasparente e quindi anche che consenta una maggiore partecipazione. Lo statuto di autonomia all'articolo 47 prevede che con legge provinciale devono essere disciplinati la legge elettorale e l'istituto del referendum. L'istituto del referendum è disciplinato, c'è una legge provinciale, ma questa legge di fatto non garantisce l'esercizio del diritto a promuovere il referendum e il diritto a, come dire, veder rispettato il risultato del referendum. Perché abbiamo un quorum troppo elevato, perché mai anche un opuscolo informativo, perché la procedura di raccolta delle firme non è conforme a quello che è il patto internazionale dei diritti civili e politici. Tant'è che l'Italia è stata sanzionata dal Comitato dei diritti umani proprio in violazione di questo trattato internazionale che è stato siglato, ratificato e quindi è vincolante a partire dal 1967. Con questo disegno di legge si prevedeva di digitalizzare tutta la procedura di raccolta delle firme, di introdurre delle informazioni istituzionali in occasione delle consultazioni referendarie per evitare il verificarsi di situazioni come quella che si è verificata con il referendum sul distretto agricolo. Questa proposta è stata tendenzialmente respinta, però c'erano dei margini di discussione, quindi abbiamo deciso, come un accordo con la Giunta, di sospenderla e consentire agli uffici di effettuare i necessari approfondimenti proprio a fronte delle proposte che sono state articolate dal Movimento 5 Stelle. Quindi la proposta è destinata a ritornare in aula nel 2023, speriamo che questa sia la volta buona. Quindi adesso l'ITER prevede il ritorno in commissione e poi dunque di nuovo in aula, come lei ha appena specificato. Bene, è tutto per questa puntata di A2x2. Grazie alla consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle, Alex Marini, io vi do appuntamento ad un'altra puntata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.